Perché tra l'altro ragazzi ho scoperto anche un altro segreto, ovvero è possibile far trasformare le truppe in Super Saiyan anche qui su Clash Royale Se vorreste sapere anche questo segreto, lasciate mi piace, ok? Iscrivetevi al canale su tutte quelle cose che ogni volta vi dico inizio video Dai raga, un bel mi piace, cerchiamo di arrivare a 4000 like E io comunque vi invito a rimanere fino alla fine di questo video per guardare me che shoppo questa offerta Così, a caso, dal nulla, vi propongo questa offerta È il potere di Dragon Ball che mi conferisce l'imbattibilità su Clash Royale Volete scalare? Usate le truppe di Dragon Onda Ene Ge Di GAAA Onda Onda Ogni volta la stessa storia Guardate se io ogni volta che dovrò fare l'onda energetica devo sudare come un suino Porca miseria Cascata pure la felpa Vabbè Comunque raga, a parte la intro che mi serviva per condividere con voi la frustrazione che provo ogni volta che provo a fare questa benedettissima onda energetica Porca miseria ragazzi Comunque ragazzi Scrivendomi altri personaggi e vedreste bene di Dragon Ball Appunto nelle carte di Clash Royale Io qualcun altro ce l'ho Qualcun altro incredibilmente nei miei luoghi nascosti ce l'ho Se vorreste un secondo episodio con altre truppe Con altre carte che appunto ricordano dei membri di Dragon Ball Ovviamente fatemelo sapere sotto nei commenti e lasciate un bel mi piace Perché tra l'altro ragazzi ho scoperto anche un altro segreto Ovvero è possibile far trasformare le truppe in Super Saiyan Anche qui su Clash Royale Sì, incredibilmente è vero Se vorreste sapere anche questo segreto Lasciate mi piace, ok? Iscrivetevi al canale su tutte quelle cose che ogni volta vi dico inizio video Dai ragazzi, un bel mi piace Cerchiamo di arrivare a 4000 like E io vi svelo questo incredibile segreto dei Super Saiyan su Clash Royale Tra l'altro ragazzi io vi invito anche ad iscrivervi al mio secondo canale Perché porto altri giochi e soprattutto Minecraft Magari vi può interessare, vi lascio il link in descrizione Abbiamo incredibilmente superato i convenevoli di questo video E ora vi sto per presentare i personaggi di questo fantastico deck In alto, a sinistra abbiamo il carissimo bocciatore che va a rappresentare niente po' po' di meno che Majin Buu ragazzi Majin Buu lo so, lo so, lo so Già sto vedendo alcune storci al naso perché dice Ah, i colori sono diversi Ah, non è che gli assomiglia tanto Ma ragazzi le forme sono quelle Al bocciatore gli manca giusto il, come si chiama Il corno gommoso di Majin Buu Incredibilmente ed è lui Anche i colori va bene Però ragazzi fondamentalmente è lui Non gli si può dire nulla Le guardie ragazzi, le guardie fondamentalmente anche loro non assomigliano molto a qualche cosa Però se ci pensate bene In Dragon Ball Super Jaco, Jaco come lo vogliamo chiamare È una guardia galattica Queste sono guardie veramente a pennello A pennello A pennello ragazzi Il tronco, voi direte il tronco Adagì ma il tronco Ma che cazzo, che personaggio è Raga, infatti il tronco Diciamo che può rappresentare i vari bastoni dei vari Non pensate male Io lo so Voi pensano sempre male È una cosa incredibile No raga, non pensate male Non quei bastoni ragazzi No quei bastoni Io mi riferisco ad esempio al bastone di Goku Che aveva da quando era piccolo ad esempio Insomma tutti in poi i bastoni più famosi Ripeto, non pensate male Di Dragon Ball Comunque possono essere riconducibili al tronco di Clash Royale Poi ragazzi abbiamo i due draghi I due draghi Io direi di passare prima al cucciolo di Drago Quello normale Che rappresenta in se per sé il Dragon Shenron Quindi anche lui esaudisce i nostri desideri Non credo perché andremo a perdere Quindi, Drago e Shenron E il Drago Polunga Quello di Namek I Namecciani, no? Vi ricordate? Dato che è un po' più pompato Polunga Direi che il cucciolo Il Drago Infernale Che è più pompato del cucciolo di Drago Lo rappresenta un po' meglio Poi abbiamo i Namecciani ragazzi I Goblin Lanceri Come facciamo a dire che non assomigliano ai Namecciani Proprio per rimanere in tema a Namek Abbiamo Ub ragazzi Ub, un grandissimo personaggio La reincarnazione di Machin Bu Se non ricordo male E ragazzi Solo per la cresta Vale tutto Solo per la cresta vale tutto Assolutamente E poi ragazzi Per eccellenza Penso proprio il personaggio Che assomigli più di tutti A qualche personaggio di Drago Lo stregone di ghiaccio ragazzi Ma il Super Saiyan Blue Ma come può non essere riconducibile Allo stregone di ghiaccio? Porca di una miseria Poi tra l'altro Anche quei capelli all'insù Cioè è proprio uguale a Vegeta Soprattutto a Vegeta ragazzi Cioè è identico Ok raga ovviamente vi ricordo Di scrivermi sotto nei commenti Altre truppe che possono essere Uguali a personaggi di Dragon Ball Per fare magari anche un altro episodio Non so fatemi sapere voi Lasciate un bel mi piace Perché vado a arrivare a 4000 like Per il prossimo episodio Che sarà appunto Un video dove vi andrò a spiegare Come trasformare le truppe di Clash Royale In Super Saiyan E io comunque vi invito a rimanere Fino alla fine di questo video Per guardare me Che shoppo questa offerta Così a caso Dal nulla Vi propongo questa offerta Cioè no L'offerta l'apro io Però vi propongo l'offerta Di guardare il video Fino alla fine Vabbè comunque Ok raga Allora Allora io con questo deck Ci ho vinto in arena Cioè non mi chiedete come Comunque è questo qui raga Cioè lo vedete 2 a 1 Lo vedete Cioè io ci ho vinto in arena Con questo deck raga Perché già ho fatto le prove Più di 3 giorni No quasi 3 giorni fa raga Ci ho vinto in arena Però non me la vado a rischiare Ci andiamo a fare una sfida classica Perché non ho le gemme Per fare la sfida grandiosa Quindi ragazzi Sì Incredibilmente ho vinto quella partita Non mi ricordo neanche come Purtroppo non vi posso far vedere il replay E mi sono scordato Forca di una puttana Di registrarlo Perché era epico E però ci accontentiamo Della sfida classica Purtroppo non avremo Il nostro domatore al 9 Che è il domatore al 9 Ragazzi non ve lo devo dire Non ve lo devo dire io Il domatore al 9 Cioè domatore Il dio Il dio E lui ci parte con una strega Assai misteriosa Lì Con anche il gigante Però il gigante Se non ha roba strana Non dovrebbe essere un problema Perché noi andiamo di Drago infernale Trachete Abbiamo le guardie Tranquille tranquille E lì Io direi di andare Di domatore Dall'altra parte Domatore Dall'altra parte Può essere interessante Abbastanza Direi Io quel mago Non so se lasciarlo Perché boh Sprecare un bocciatore Ma forse il mago di ghiaccio Dovevo utilizzare Due hit me le potevo Risparmiare Benissimo Però va bene Lo stesso Ora Mettiamo Questa robetta qui Ma porca miseria Non è bastata Assolutamente E non so E non so Se quel moschettere Ci arriva A torre No Grandissimo Grandissimo Il dragon Sharon Mamma mia Un colpo Lo potevi dare Però Non abbiamo ancora Giocato la nostra Carta vincente Ovvero Machinbu Ragazzi Machinbu Sarà La nostra Carta vincente L'ho detto L'ho detto L'ho detto Ci potrei scommettere Ragazzi Ok Machinbu Va perfettamente Contro la strega Va perfettamente Contro la strega L'andrà a stuprare Malissimo Ci giochiamo anche Il dragon infernale Come prima E può venire fuori Qualcosa di davvero Carino Ora Lui ci gioca Lì il razzo In maniera Abbastanza Particolare E io direi Di ripartirgli Dall'altra parte Perché lui adesso Si difenderà In qualche modo Lì Se non ti difendi Sei un bel pollo Non ti difendi Ma lo sai Che il dragon infernale Fa un danno Della madonna No raga No Cioè Io devo capire Perché con questo deck Riesco a fare Queste partite incredibili Cioè No raga Ma non sto scherzando Cioè È un deck di merda È un deck di merda Come cazzo faccio Non lo so Ho fatto solo Queste due partite Questa è quella Che vi ho fatto vedere Che ho vinto E incredibilmente Questa la sto vincendo E non è detto Che vinca ovviamente Cioè non è assolutamente detto Però però adesso Siamo in vantaggio E Sì Cioè raga Ripeto Il bocciatore Lo dovevo mettere Tutta la vita Più avanti Qui ovviamente Non voglio prendermi Altri colpi Mamma mia Il bocciatore Io ve l'ho detto Che il bocciatore Era proprio Era proprio Ah ce l'ho sciotta Quindi prima Con il razzo di prima Ha mancato Per nostra fortuna Il drago infernale Che poi è stato fondamentale Cioè se lui prima Non avesse mancato Con il razzo Quel drago infernale Noi non avremmo mai Fatto fuori La sua torre Tra l'altro Ci gioca il barbari Incredibilmente Contro il nostro bocciatore No ma dai Sì Cioè Grandissimo Jetster Jetsetter Come cazzo ti chiami Vabbè comunque Cioè se ti faccio Due torri È incredibile Ah il bocciatore Stava per colpire Machingu Stava per colpire Incredibilmente Gli stavamo per fare Due corone Proprio contro tutti I pronostici Cioè a me Mi dovete far capire Come cazzo è possibile Che io vinco Con questo deck Cioè io vi faccio vedere Che con quel deck Oltre a quella partita Non ho fatto altre partite Cioè con questo deck Sono a 100% vittorie Eccolo Vedete Non ci ho fatto altre partite Era solo questa Due partite Due vittorie Con un deck Del cazzo Ma questo Questo è ancora Una conferma in più Che è il potere Di Dragon Ball Ragazzi È il potere Di Dragon Ball Che mi conferisce L'imbattibilità Sul Clash Royale Volete scalare Usate le truppe Di Dragon Ball E come promesso Ragazzi Ora siamo qui Per shopparci L'offerta speciale Dell'Arena 9 Sull'account di Fogost Ragazzi Perché sul mio account L'abbiamo già fatto Ovviamente Fogost Come al solito Cerca il grandissimo Mastino Perché è l'unica Leggendaria Che gli manca E andiamo a vedere Cosa ci troveremo dentro Ok ragazzi È partito il baule È partito al volo Il baule Come al solito Oro Attenzione 22 Goblin Cerbottaniere Che non ci fa niente Anche con i tre Moschettieri Mamma mia Non ci fa nulla Fireball Che vabbè È buona Ma Fogost Evidentemente Dato in una potenza Non lo utilizza 6 epiche Ok Però ci deve dare Ancora tutte le comuni Se non sbaglio Attenzione Attenzione Sei di Arena 9 E adesso ci da Circa Poco più di 10 epiche Ok raga C'è la leggendaria C'è la leggendaria Ti prego Dragon Sharon Dio della distruzione Bills Zenosama Chi sta a seguire Dragon Ball Super Sta capendo tutto Poi Ho anche spoilerato Qualche nome Tra l'altro Per chi lo sta seguendo In italiano Ok Forse lo dovevo dire Un attimo prima Che Vabbè Comunque Ci abbiamo la leggendaria Ci abbiamo la leggendaria Attenzione Attenzione Stregone elettrico A me mi perseguitano Boscaiole Scintilla A Fogost Lo perseguita Sto streone elettrico Però da quello che so Lo sta utilizzando Quindi dai Portarlo al 2 Non è male Comunque ragazzi Spero che questo video Fuori dal comune Vi sia piaciuto Dico fuori dal comune Perché non tanto spesso Mi prendo queste libertà E infatti Non so neanche perché Ogni tanto le prendo Ogni tanto no Vabbè Fatemi sapere sotto Nei commenti Se vi piacciono Un po' di più Così i video Vi ripeto di iscrivervi al canale Se ancora si è fatto Lasciate un bel mi piace Se siete arrivati fino a questo punto Del video Non potete non lasciare mi piace E non potete non scrivermi sotto Nei commenti Se vi viene in mente Qualche altra carta Da associare a qualche personaggio Di Dragon Ball Sempre se vi viene in mente Ovviamente ragazzi Vi ricordo anche di fermi a seguire Sul mio secondo canale Se ancora non è stato fatto Soprattutto c'è Minecraft Ma anche altri giochi Vi lascio il link In descrizione Per me è tutto E noi ci troviamo Prossimamente qui Sul mio canale Magari con la trasformazione In Super Saiyan Di qualche truppa Di Crash Royale Ciao ragazzi Anzi no Sto video Sto video Deve finire così È iniziato Intanto Luce Ok È iniziato Alla maniera di Dragon Ball Finirà alla Dragon Ball Ciao ragazzi Ciao